Bene, possiamo cominciare. Bene, questo ufficio di presidenza è integrato del rappresentante di gruppo, disegno di legge 2401, conversione legge del decreto 27 settembre 2021-130, recante visore urgenti per il contenimento degli effetti e degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale. Comunico che è stata altresì chiesta l'attivazione del pianto divisivo per la riunione dell'ufficio di presidenza, che sta per iniziare, che la presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio senso. Andiamo il via al ciclo di audizioni, cominciamo con l'Associazione Nazionale Industriale del Gas, Anigas, con il presidente Cristian Signoretto e il direttore generale Marta Bucci. A voi lascio la parola e decidete voi chi inizia, siamo qua ad ascoltarvi, grazie. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'opportunità di essere oggi presente con voi. Allora, abbiamo preparato alcune slide a supporto della discussione, non so se ne avete ricevute, le ho riuscite a vederle. Ok, perfetto. Allora, brevemente, Anigas è stata fondata nel 1946 ed oggi rappresenta la gran parte dell'industria del gas naturale in Italia. Noi, diciamo, rappresentiamo la filiera del gas dalle infrastrutture fino alla vendita, incluso anche trading. Quindi abbiamo, diciamo, sotto il nostro cappello una buona parte, appunto, delle società che se ne occupano a livello nazionale. E ovviamente, diciamo, abbiamo sempre collaborato con il sistema per cercare di creare un mercato sempre più efficiente e concorrenziano. A parte questa premessa sull'associazione, partirei subito magari sui temi che vogliamo affrontare oggi con voi. Da una parte abbiamo voluto preparare un inquadramento di mercato per dare la nostra interpretazione di quello che sta succedendo oggi sul mercato del gas. Nazionale, in realtà, globale, perché è difficile vedere il mercato del gas nazionale senza guardare poi al mercato globale. E poi abbiamo invece focalizzato poi anche il nostro intervento sulla parte invece di misure che si possono mettere in campo per, diciamo, affrontare questa situazione. E di questo ne parlerà magari più brevemente Marta. Poi ovviamente siamo a disposizione per le vostre domande. Allora, partiamo. A slide 3 dal concetto che, diciamo, il mercato dell'LNG a livello globale è cresciuto enormemente negli ultimi anni. Ed è diventato effettivamente quello che io chiamerei un collante a livello globale che, diciamo, non fa altro che cercare di, di fatto, allineare o comunque portare sullo stesso livello i prezzi del gas a livello planetario. Perché? Perché ovviamente da una parte abbiamo, diciamo, i paesi asiatici dove c'è un forte aumento di domanda del gas. Forte aumento di domanda legato a due fattori principali. Il primo fattore è, ovviamente, sono mercati in forte crescita, in forte sviluppo, sviluppo economico. E quindi, diciamo, stanno aumentando il loro fabbisogno di energia. Il secondo elemento importante è che questi paesi, a partire dalla Cina, stanno attraversando un momento di transizione dal carbone, sostanzialmente, al gas. Come fonte, diciamo, di energia, ovviamente, più pulita e più, diciamo, accettabile dal punto di vista, diciamo, ambientale a livello, diciamo, nazionale. E questo fa sì che, diciamo, la crescita della domanda di LG in questi paesi, in Asia, sia, diciamo, attorno a, mediamente all'anno, attorno all'8-10%. Quindi, ogni anno, diciamo, c'è maggiore richiesta di questo combustibile. E questo fa sì di fatto che, aumentando la richiesta di LG in Asia, ovviamente, diciamo, viene meno la possibilità per altri paesi, in particolare, diciamo, in Europa, di accedere a questa, alla molecola di LG. Quindi, questo, diciamo, è un elemento importante per comprendere un po' le dinamiche che stanno avvenendo a livello globale. Passiamo alla slide successiva. Diciamo, a fronte di questo, focalizzandoci un po' di più, invece, sul mercato nazionale, come, diciamo, risaputo negli ultimi, direi negli ultimi 15 anni, 20 anni, il mercato europeo ha visto una grande trasformazione delle dinamiche, diciamo, competitive. Perché si è passati da quello che era, erano dei mercati nazionali, regionali, sostanzialmente controllati da monopolisti del gas, a mercati, invece, connessi, diciamo, dove il gas circola liberamente all'interno dell'Europa e concorrenziale. E soprattutto i contratti di lungo termine che sono stati e sono ancora in parte l'asse portante del mercato gas lato approvvigionamento, legato al fatto che, ovviamente, l'Europa importa l'80% del gas che consuma per un tema strutturale, questi contratti sono stati via via con lo sviluppo dei mercati, diciamo, spot, dei mercati, diciamo, liquidi, dei mercati in grosso, sono stati via via, diciamo, allineati e indicizzati a questo tipo di segnali di prezzo. Quindi si è passati da quello che in qualche modo era l'indicizzazione ad olio o all'indicizzazione ad abbre. E in questo sistema, ovviamente, la flessibilità, ancora una volta, che deriva, che c'è per il mercato europeo della disponibilità di gas, viene, ancora una volta, sempre dall'LNG, perché in Europa c'è una grande capacità di accettazione di LNG, dalla Spagna, all'Italia, alla Francia, all'Inditerra, c'è una grande capacità di accesso per l'LNG e quindi questa è una fonte importante di flessibilità, quando l'LNG è disponibile, ovviamente. L'altra fonte di flessibilità, ovviamente, sono i gasdotti che ci collegano con i paesi produttori, in primis Russia, Algeria e ovviamente Norvegia. E, diciamo, per come è stato costruito il mercato gas, il mercato, diciamo, interno del gas europeo, ma anche nazionale, ovviamente, oggi il mercato sta rispondendo con dei segnali di prezzo a quelle che sono le dinamiche di mercato. Infatti, se passiamo un attimo alla slide successiva, proprio per cercare di capire quello che sta avvenendo, qui vedete quello che è successo durante il 2020, rispetto a quello che era il 2019. Cioè, un anno fa, ma veramente a 12 mesi fa, noi avevamo, come dire, una situazione di fatto all'opposto. Perché cosa c'è? C'era una forte crisi della domanda, diciamo, a livello mondiale, in Europa e in Italia, principalmente legato, ovviamente, all'effetto della pandemia, che hanno, diciamo, creato una riduzione importante, diciamo, dei consumi, di tanti commodity, ma anche, ovviamente, del gas, e a fronte anche di un inverno mite, perché il 2019 è stato un inverno mite, in particolare nell'emisfero nord, questo ha creato, diciamo, un surplus di offerta, rispetto alla domanda, e c'era stato un calo importante dei prezzi, che avevano toccato mediamente durante il 2020, 10 euro megawattora, ma ricordo che proprio 12 mesi fa, in questo periodo, i prezzi erano attorno ai 5, 6 euro megawattora, erano, diciamo, prezzi molto bassi, ma perché? Perché ovviamente riflettevano un sistema in cui c'era più offerta rispetto alla domanda, e quindi il prezzo, diciamo, era molto, molto basso. E ovviamente, se ci spostiamo al 2021, e lo vediamo nella slide successiva, questo invece, diciamo, nel giro di 12 mesi si è completamente girato. Perché? Perché da una parte, la domanda, ovviamente, è in forte ripresa, grazie al fatto che una buona parte delle economie, diciamo, globali, sono usciti a contenere la pandemia, e quindi sono ripartiti i consumi, la produzione industriale, quindi, diciamo, c'è una ripresa economica in atto, e, d'altra parte, c'è stato anche l'effetto di temperature più rigide, che è iniziato, devo dire, nello scorso inverno, nel periodo tra novembre, dicembre, gennaio, un inverno particolarmente freddo, diciamo, in Asia, e invece, durante il periodo, diciamo, febbraio-aprile, è stato freddo invece in Europa. Quindi, in momenti diversi, però, ha fatto freddo nell'emisfero, diciamo, settentrionale, e questo ha creato, ovviamente, una richiesta maggiore di gas. E questo squilibrio, di fatto, tra domanda e offerta, ha fatto sì che i prezzi, nel 2021, a partire da, diciamo, in realtà, già dall'inverno scorso, dal settembre, dall'ottobre scorso, sono partiti gradualmente a salire, e adesso, recentemente, nell'ultimo mese, mese e mezzo, hanno avuto questa importante accelerazione, legata a un fatto più contingente che strutturale. Poi lo vediamo nella slide successiva. Infatti, adesso i prezzi, adesso qui, vedete, scusate, vedete una proiezione a fine dell'anno, ovviamente, il 2021 non si è ancora chiuso. Abbiamo i numeri fino a ottobre, ovviamente, novembre-dicembre, sono numeri stimati sulla base delle quotazioni dei mercati all'ingrosso, però, vedete, i prezzi si attestranno attorno a 40-50 mWh, quindi molto, 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 molto più alti rispetto ai 10 mWh del 2020. Vediamo, da un punto di vista contingente, che cos'è che è successo in questi ultimi mesi. Allora, da una parte, il picco di freddo che c'è stato alla fine dell'inverno scorso in Europa ha fatto sì che l'Europa, diciamo, provasse ad attirare i carichi di LNG dal mercato internazionale per riuscire a colmare e a riempire gli stoccaggi per affrontare l'inverno, diciamo, questo inverno, l'inverno che ci aggiungiamo ad affrontare. Però quello che è successo in questi mesi c'è stata una continua rincorsa tra i mercati asiatici e i mercati europei è per attirare questi carichi, perché ovviamente la stessa cosa, diciamo, sta succedendo in Asia, dove, ripeto, la domanda sta continuando a salire. Proprio, diciamo, ad oggi, in Asia c'è un aumento della domanda che abbiamo riscontrato di circa l'8% rispetto all'anno precedente. E questo ha fatto sì che i carichi di GNL venissero attirati in Asia. A questo, diciamo, abbiamo anche dovuto affrontare durante il periodo, soprattutto, diciamo, estivo, prima, diciamo, punnale, anche un cavo delle disponibilità di produzione rinnovabile legato a fattori, diciamo, non strutturali ma contingenti, ha una minore ventosità. Aggiungiamo anche che Sud America ha avuto dei problemi di idraulicità, tali per cui c'era poca disponibilità di acqua per far andare le centrali elettriche, quindi ha dovuto anche stabilare carichi di GNL. Su questa situazione si è montato il fatto che alcuni paesi produttori di LNG, pensiamo alla Norvegia, pensiamo alla Trinan Tobago, pensiamo all'Australia, hanno avuto delle disruption sulla produzione per manutenzioni non programmate piuttosto che per incidenti come nel caso della Norvegia. Per cui, lasciatemi dire, l'offerta è stata un po' messa un po' sotto pressione da questi problemi e quindi si è creato quello che, diciamo, vediamo oggi tutti, il fatto che c'è una rincorsa un po' ai prezzi, perché i prezzi che vediamo alti in Italia, li vediamo ovviamente anche in Europa e li vediamo anche in Asia, per cercare di attirare i carichi GNL per affrontare l'inverno che deve arrivare. Ora, in tutto questo, secondo noi, l'Italia si trova comunque in una situazione, diciamo, meno critica, da un punto di vista di sicurezza degli approvvigionamenti. Per quale motivo? E da un lato perché il livello di riempimento degli stoccaggi, ancorché sia, diciamo, leggermente inferiore a quello dell'anno scorso, oggi è attorno all'87% e quindi, diciamo, come dire, comunque, diciamo, è vicino a quello che è un coefficiente di riempimento massimo e quindi, diciamo, rispetto ad altri paesi europei sicuramente abbiamo un riempimento maggiore. E questo anche grazie al fatto che l'Italia, come anche la Francia, devo dire, ha un meccanismo di allocazione degli stoccaggi che è legato al mercato, quindi non è, diciamo, riflette questa dinamica di mercato e quindi gli operatori hanno un maggiore incentivo a usarlo per le proprie attività di approvvigionamento e di gestione del portafoglio gas. Mentre, d'altra parte, in Italia quest'anno è entrato in funzione il TAP che porta gas a zero. Ci aspettiamo che, insomma, da qua a fine anno arriveranno usciti a 7 miliardi di gas dal TAP, volumi che l'anno scorso non c'erano, quindi sono volumi nuovi tra il 2021 e soprattutto dall'Algeria anche nel 2021 sono fluidi molti più volumi, 9 miliardi in più rispetto al 2020. Quindi, diciamo, anche questo ha contribuito, diciamo, ad allentare la criticità dell'approvvigionamento in Italia. È chiaro però che l'Italia non è un'isola assistente, questo è importante, cioè nel senso che quello che è successo quest'anno di fatto è che l'Italia ha esportato una parte del gas verso il nord Europa. Di solito l'Italia importava il gas verso il nord Europa. Quest'anno, durante l'estate, addirittura abbiamo appunto esportato e quindi la nostra dinamica globale di prezzo ovviamente risente di quello che succede in Europa dove invece la situazione chiaramente è più sotto pressione. La pagina successiva vedete, ho stoccato, ne abbiamo già parlato. Presidente, mi scuso solo un secondo, credo che l'accordo era dieci minuti per poi lasciare un po' di tempo ai colleghi perché alle 11.20 abbiamo un serrato programma di audizioni per cui ti chiederei solo di riuscire a essere un pochino più, a chiudere un pochino prima. Grazie. Grazie mille. Io ho finito, lascio magari la parola a Marta velocemente sull'ultimo slide. Grazie. Allora, rispetto al decreto legge che oggi è in esame come Anigas abbiamo certamente apprezzato anche la capacità del governo di individuare velocemente degli interventi per ridurre l'incremento di prezzo al cliente finale. I tre interventi che sono stati individuati quindi l'applicazione di un'IVA ridotta per i consumi di competenza ottobre-dicembre la riduzione delle aliquote relativa ai ioneri generali gas il potenziamento del bonus sociale crediamo che vadano nella direzione un po' spiegata da tutti di proteggere sostanzialmente i clienti finali rispetto a queste dinamiche di mercato che abbiamo analizzato poc'anzi. Ci sono per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA degli impatti sui sistemi di fatturazione per cui le aziende si stanno adeguando per essere pronti a seguire la norma quello che possiamo portare oggi a questa riflessione è un po' alcuni elementi che a nostro avviso devono essere riconsiderati per riuscire in maniera strutturale a fronteggiare queste dinamiche di mercato e quindi a proteggere un po' la capacità di spesa dei clienti le riflessioni riguardano il ruolo del gas naturale nel sistema energetico è un ruolo che resterà un ruolo importante quindi oggi sappiamo che il gas è centrale per il bisogno energetico del nostro paese lo sarà anche nel 2030 perché andrà a sostituire il carbone e soprattutto andrà a bilanciare le ferre quindi servirà come fattore come elementabilitante della diffusione delle ferre rinnovabili ma anche al 2050 la Commissione Europea prevede che il 20% dei consumi totali siano comunque coperti da molecole quindi per due terzi saranno gas rinnovabili lo carbone e un terzo gas naturale con meccanismi di cattura della anidride carbonica quindi la prospettiva di utilizzo del gas è una prospettiva di lungo termine e su questo diciamo questo deve essere tenuto presente lato mercato sappiamo che stiamo andando verso la piena liberalizzazione del mercato questo significa che il mercato libero può offrire già degli strumenti di protezione rispetto a alcune dinamiche di prezzo oggi nel mercato gas il 60% dei clienti è sul mercato libero circa il 70% dei condomini si orientano prevalentemente su contratti con le sue offerte a prezzo fisso e quindi per esempio in questa contingenza ci sono clienti che oggi sono protetti appunto da questo innalzamento dei prezzi quindi pagano dei prezzi più bassi rispetto all'offerta in tutela quindi si può lavorare su un rafforzamento anche del mercato libero e quindi guardare anche con fiducia al superamento completo delle tutte le di prezzo perché nella sua varietà il mercato libero potrà anche offrire delle protezioni appunto rispetto a queste dinamiche va fatta poi certamente contestualmente una riflessione su quali clienti siano invece da proteggere in maniera diversa quindi clienti vulnerabili clienti che si trovano in povertà energetica e alla luce di questo sicuramente interessanti sono le riflessioni che si stanno facendo nell'ambito del recepimento della direttiva UE 944 quindi sulla capacità di individuare in maniera efficace i clienti che hanno bisogno di protezione qualche ultimo spunto rispetto all'esigenza di mantenere un mercato che sia fluido liquido competitivo come un mercato gas rafforzato anche a livello europeo si sta ragionando su queste cose certamente c'è da approfondire immaginare individuare delle misure che vadano a potenziare questo mercato che abbiamo costituito a livello europeo a potenziare con meccanismi comunque di mercato che magari valorizzino quella che è la flessibilità l'elasticità delle forniture si può accogliere l'occasione per rivedere anche il sistema ETS proprio in considerazione di questa volatilità dei prezzi quindi dare una maggiore stabilità una prevedibilità far sì che questo strumento funzioni per incentivare investimenti pro decarbonizzazione e poi spostare sulla fiscalità generale in maniera strutturale quelli che sono i clienti di sistema grazie se ci sono domande grazie dottoressa Bucci grazie presidente signoretto lascio la parola ai colleghi vedo si prenota la senatrice Tiraboschi che ne ha a facoltà grazie grazie presidente molto velocemente insomma mi è perso di capire questa relazione che l'Italia non è messa così male ha anche affrontato una fase di esportazioni a stoccaggi sufficienti eccetera eccetera però l'avete detto anche voi le dinamiche dei prezzi risentono molto dell'andamento della domanda dell'offerta e la competition worldwide insomma non è che ci ci tiene ai margini del mercato allora vado direttamente alla domanda come vedete voi questo annuncio che se non sbaglio fu fatto una decina di giorni fa un paio di settimane fa dal premier Draghi di valutare l'opportunità di far parte di consorzi europei sia per quanto riguarda come dire gli stoccaggi sia per quanto riguarda gli eventuali investimenti tema sul quale avete fatto un affondo in termini in termini di 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 riflessione che deve guardare al futuro cioè a dire tutta una serie di investimenti manutenzioni e quant'altro dei quali magari non si è tenuto conto in anni passati e dei quali invece bisognerà tenere conto per il futuro perché evidentemente tutto questo poi si ribalta sul prezzo finale allora posso posso si si prego era questa la domanda ok perfetto scusa grazie per la domanda allora diciamo allora effettivamente diciamo secondo me dobbiamo tenere conto del fatto che non sempre il mercato come dire mette in piedi tutti gli strumenti che possono garantire come dire la sicurezza dell'approvvigionamento facciamo un esempio che ce l'ho molto chiaro in testa pensiamo al mercato elettrico il mercato elettrico è stato messo in piedi dall'Europa e anche dall'Italia il cosiddetto capacity market di fatto per dare un segnale alle centrali che possono rispondere velocemente a segnali di prezzo per entrare nel mercato e cambierà il prezzo quando è opportuno e questo è stato fatto perché perché in alternativa queste centrali sarebbero state dismesse sostanzialmente quindi diciamo per evitare di incorrere in un rischio legato a mancanza di disponibilità l'Europa l'Italia ha messo a punto questo mercato che è il cosiddetto capacity market ecco secondo me questo è un esempio di quello che uno potrebbe cercare di fare anche sul mercato gas ovvero immaginare dei sistemi anche centralizzati e non necessariamente diciamo sistemi assegnati ai singoli operatori ma centralizzati che però abbiano un approccio market based che quindi diciamo mettono gli operatori in competizione per garantire degli strumenti per la sicurezza dell'approvvigionamento secondo me è un elemento da studiare assolutamente vedo l'opportunità ovviamente all'interno secondo me delle dinamiche del mercato non può essere un elemento che è distorto comunque diciamo separato dal mercato per far parte del mercato per come l'abbiamo scelto che si può cambiare però diciamo va modificato migliorato ma diciamo insomma resta comunque la base secondo me grazie presidente chiedevo ai colleghi se ci sono altre domande senatore Croatti grazie presidente volevo chiedervi come vi ponevate riguardo a quello che è stato l'agenzia il documento che ha fatto l'agenzia internazionale sull'energia di AEG in realtà questo aumento che stiamo avendo è veramente sproporzionato del gas soprattutto sulle bollette finale su come arriveranno sulle persone diciamo che questo documento chiede una diminuzione del 75% dei gas nei prossimi anni è una transizione importante e speriamo che siano anche le comunità energetiche aiutare in questa direzione a quello che sarà delle caldaie di casa alle pompe di calore da tutti quelli che sono attualmente e quello gli elettrutenzi che consumano il gas all'interno delle case come caldaio il gas i forni e anche le macchine stesse questo passaggio che ci sarà sarà fondamentale c'è bisogno di capire come si può oltre quello che stiamo facendo intervenire in maniera importante perché sono aumenti veramente molto difficili da accettare in questa fase dobbiamo capire come affrontarli e come cercare di andare verso questa riduzione fondamentale comunque questo documento è molto importante dà delle indicazioni abbastanza forti sulla riduzione dell'utilizzo del gas avevo piacere di avere una vostra riflessione su questo grazie allora vedo che anche il senatore Mollame ha chiesto la parola io vi dico che abbiamo finito il tempo per per diciamo che era dedicato alla prima audizione però finiamo con la domanda del senatore Mollame poi al presidente chiedo due flash proprio al limite se servirà una nota scritta rispetto alle domande stiamo qua ovviamente a disposizione senatore Mollame grazie presidente sarò velocissimo io sì dico alla fine è la legge sempre della domanda dell'offerta che governa ogni settore del mercato e quindi in questo contesto ci sono stati dei fattori concomitanti emergono in maniera molto chiara dalla relazione dei nostri auditi mi viene in mente un particolare periodo di tanti anni fa era il 1973 e si parlò di austerity no? anche di riduzione dei consumi ricordate non so chi si può ricordare che magari più avanti negli anni avevamo le domeniche a piedi adesso noi viviamo in un contesto invece globale dove siamo diventati degli energivori illimitati per certi versi quanto potrebbe essere significativo anche qualche provvedimento per cercare di ridurre anche un po' i consumi ordinari e anzi forse per certi versi rispetto a qualche decennio fa anche oggi straordinari grazie Allora magari provo a rispondere velocissimamente a entrambe le allora sul tema ovviamente delle bollette diciamo capiamo e ci rendiamo conto della complessità della situazione nel senso che purtroppo il prezzo è un po' fuori dal controllo dello Stato non so perché la commodity come diciamo prima essendo il mercato globale alla fine noi abbiamo un po' subiamo un po' le dinamiche concorrenziali globali quello che a me viene in mente su queste due cose è da un lato quello che è stato fatto è sicuramente doveroso secondo magari cercare a maggior ragione defiscalizzare comunque togliere onere diciamo il sistema dal gas per evitare appunto appesantiscono le bollette in un po' in modo improprio lasciatemi dire e ovviamente l'altro elemento è come dire essere sicuri che le fasce più debole abbiano modalità per essere schermate da queste volatilità che magari appunto magari entreranno fra 6-8 mesi però durante l'inverno purtroppo hanno un impatto negativo sul tema dei consumi invece effettivamente questo sta succedendo cioè il mercato ovviamente trova un suo equilibrio nel senso che ci sono alcune attività economiche in particolare industriali e di produzione di energia elettrica che stanno svicciando da gas a carbone ad esempio perché in Cina stanno tornando ovviamente a usare carbone o addirittura olio combustibile addirittura olio combustibile stanno incominciando ad usare il costo del gas quindi e in Europa quello che sta succedendo purtroppo ovviamente in Paterra e in Francia non tanto in Italia in Italia non lo vediamo succedere ma in Paterra e in Francia è che alcune industrie fortemente energivore un po' in mente i fertilizzanti soprattutto stanno riducendo i turni di lavoro purtroppo stanno perdendo competitività e stanno diciamo riducendo l'attività industriale e quindi questo riduce un po' la domanda di gas per l'industriale quindi diciamo però diciamo questa è una cosa che sta succedendo purtroppo grazie grazie presidente grazie presidente vi ringraziamo e noi passiamo alla prossima la prossima edizione ancora grazie all'Anne Gas grazie 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 buongiorno farei una prova a microfono dottor Ferraresi se vuole provare a parlare così vediamo se siamo perfettamente collegati dottor Ferraresi mi sente credo di sì perché però se non toglie diciamo il silenziatore il silenzio chiedo bene eccoli eccoli stavo dicendo che la sento perfettamente molto bene allora io direi che a questo punto lasciamo lei la parola dottor Ferraresi per l'associazione italiana di scaldamento urbano AIRU dicendo che ha 10 minuti chiedo scusa anche per un pizzico di ritardo e per lasciare poi lo spazio ai colleghi per eventuali domande grazie prego dottore buongiorno a tutti intanto grazie per questa possibilità due parole veloci per dire che cos'è AIRU associazione italiana riscaldamento urbano è la principale associazione degli operatori da teleriscaldamento ed annovera tra i suoi soci sia enti pubblici che di ricerca imprese attive nella realizzazione e gestione degli impianti di teleriscaldamento oltre il 90% dell'energia attualmente erogata a livello nazionale tramite reti di teleriscaldamento è riconducibile quindi ad imprese associate ad AIRU ad oggi in Italia il teleriscaldamento copre circa il 2,3% della domanda termica per climatizzazione e nel nostro paese sono presenti oltre 400 reti teleriscaldamento riscalda quasi 360 milioni di metri cubi di volume abitativi e lavorativi nei nostri edifici l'equivalente è di circa 1.300.000 appartamenti in base ai dati del GSE gestione dei servizi energetici le reti italiane distribuiscono quasi 10 terawattore di calore ai propri clienti aggiungo che evitiamo circa 1.700.000 tonnellate di CO2 attualmente con questi dati per quanto riguarda il decreto 130 di 21 comprendendo la necessità di adottare misure straordinarie per attenuare nei prossimi mesi l'impatto dei ricarichi dell'energia elettrica del gas metano per famiglie e imprese AIRU evidenzia l'assoluta urgenza di tutelare dall'eccessivo aumento del costo della bolletta anche i cittadini utenti finali del telediscaldamento l'articolo 2 comma 1 del decreto 130 di 21 dispone che l'aliquota IVA applicabile ai consumi gas metano stimati o effettivi dei mesi di ottobre novembre dicembre del 2021 sia del 5% in luogo delle attuali aliquote del 10 o 22 che si applicano a seconda del consumo e della tipologia di attività svolta ciò al fine di contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano usato per la combustione negli usi civili ed industriali inoltre nel caso in cui la contabilizzazione avvenga sulla base dei consumi stimati si prevede che l'aliquota del 5% verrà applicata anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili anche percentualmente ai mesi di ottobre novembre dicembre 2021 pertanto l'attuale formulazione dell'articolo 2,1 consente a coloro che acquistano direttamente gas metano per bruciarlo in una caldaia condominiale o monofamigliare ottenendo calore quindi per il riscaldamento di beneficiare dell'aliquota IVA ridotta tuttavia la giubilazione in parola non si potrebbe applicare alla fornitura nei confronti dei clienti di teleriscaldamento per le raffrescamento e acqua calda sanitaria per uso domestico in questa sede AIRU tiene a sottolineare in primo luogo che anche gli utenti finali del teleriscaldamento al pari dei consumatori serviti dal gas metano o dall'energia elettrica non sono in grado evidentemente di supportare le pesanti conseguenze economiche derivanti da un eccessivo incremento delle spese energetiche inoltre l'esclusione del teleriscaldamento dall'applicazione dell'IVA al 5% avrebbe ulteriori ripercussioni negative per l'intero portale considerato che le imprese aderenti ad AIRU si troverebbero ad agire in un contesto di mercato penalizzante vedendo irrimediabilmente compromesse le campagne di vendita del 2021 e del 2022 a tale proposito accogliamo l'opportunità di questa audizione per ribadire che nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario tipo introdotte nel passato per incentivare gli interventi di efficientamento energetico il cosiddetto super bonus 110% di cui l'articolo 119 del decreto legislativo 64 del 2020 cosiddetto ecobonus di cui l'articolo 14 del decreto legislativo 63 e 13 gioca a ricordare infine che l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni stati membri come ad esempio la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata in questo caso del 5,5% al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti per queste ragioni sopraesposte aero ravvisa la necessità in sede di conversione in legge del decreto legge 130 del 2021 che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% sia estesa tempestivamente agli utenti finali del teleriscaldamento i quali altrimenti risulterebbero esclusi in maniera del tutto ingiustificata dall'intervento normativo di carattere emergenziale del cuore al fine di fornire un ulteriore contributo all'esame parlamentare e restando ovviamente a disposizione per approfondimenti si evidenzia che per stimare la perdita di gettito derivati dalla riduzione della riduzione dell'aliquota IVA al 5% anche al teleriscaldamento è possibile utilizzare i dati dei consumi delle famiglie del 2019 la fonte è il rapporto GSE teleriscaldamento e telerafuscamento in Italia applicando le variazioni di aliquota ai soddetti consumi si ottiene la variazione di gettito relativa a tutti i consumi civili compresi quindi quelle delle famiglie per circa 28 milioni di euro pertanto gli effetti complessivi di tutti gli usi famiglie altri usi civili sono pari a 28 milioni di euro nel 2020 per rinnovare l'assoluta necessità e urgenza di un correttivo in sede di conversione in legge del decreto legge 130 del 2021 sopra auspicato Aero desidera allegare alla presente la seguente proposta di modifica l'articolo 2 all'articolo 2 misure per il contenimento si propone al comma 1 dopo le parole al decreto legislativo 26 ottobre 95 numero 504 raggiungere le parole nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento conseguentemente il testo coordinato diventerebbe in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 633 le somministrazioni di gas metano usate per la combustione per gli usi civili industriali di cui all'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 numero 504 nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per il consumo estimati o effettivi dei mesi di ottobre novembre dicembre 2021 sono soggettate all'aliquota IVA del 5% qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili anche percentualmente ai mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 io ho terminato la mia comunicazione e sono a disposizione ovviamente grazie grazie dottor Ferraresi chiedevo ai colleghi se ci sono delle domande forse il senatore Croatti ecco sì grazie presidente volevo chiedere se c'era un'informazione che potete darci come associazione se ci sono all'interno del settore del terrescaldamento gruppi che sono passati dalle comunità alle comunità energetiche per capire insomma avete una finestra molto ampia di palazzi si parla di quasi 1300 mila abitazioni purtroppo l'unica strada che abbiamo per ridurre i costi realmente di quello che è l'utilizzo del gas all'interno delle case la spesa annuale di una famiglia si aggira circa 3 mila euro di cui il 33% va nel gas diciamo un 17% nell'energia quindi sono l'unica strada che abbiamo è intraprendere quella delle comunità energetiche volevo solamente sapere se avevate così una una visione sul livello nazionale di questa transizione grazie ma per quanto riguarda le comunità energetiche posso dire che è uno dei temi che si sta aprendo in questi mesi la red 2 ha aperto questo ragionamento in maniera formale ma soprattutto da un punto di vista elettrico direi che da un punto di vista termico siamo un pochino ancora in fase di studio non abbiamo elementi ancora definiti o casi in cui come dire il tema delle comunità energetiche sia stato valutato in maniera operativa grazie dottor Ferraresi altri colleghi che vogliono intervenire mi sembra di no quindi ringraziamo dottor Ferraresi per la sua esposizione e passiamo alla prossima edizione ancora grazie dottore grazie a te e buon lavoro arrivederci buon lavoro a lei buongiorno passiamo alla prossima audizione associazione italiana grossisti di asia e trader ijet do il benvenuto al presidente massimo bello al quale cedo la parola per questa per questa audizione ricordando che hanno più o meno sono dieci minuti per lei e dieci minuti poi per i colleghi per eventuali domande grazie dottor grazie presidente prego buongiorno buongiorno e grazie per per questa occasione di confronto immagino che già siano state affrontate tematiche legate allo scenario energetico al tipo di crisi dei prezzi dell'energia che stiamo affrontando per cui io proverei magari a concentrarmi sul punto di vista dei fornitori di energia e gas in questo contesto ci troviamo di fronte ad un aumento dei prezzi che tocca in alcune situazioni 500% in pochissimi mesi per cui ci vorrei spiegare bene perché questo fatto colpisce i fornitori di energia immaginiamo chi fornisce dei beni materiali in questo caso è possibile per chi fornisce beni materiali sapere esattamente quale quantità di un determinato bene deve consegnare in un certo mese dell'anno nel caso dell'energia e del gas questo non è possibile perché intanto non si consegna ai clienti finali un quantitativo preciso di energia e gas ma solo un quantitativo stimato dopodiché saranno i consumi del cliente a determinare quanta energia o quanto gas bisogna fornirgli il secondo fattore che incide è che noi non possiamo sapere oggi in anticipo se l'inverno sarà freddo o caldo rispetto alla media e questo determina una grossa incertezza sui volumi che dovranno essere forniti e inoltre c'è un fattore molto importante che io non so quanti clienti come fornitore dovrò fornire nei mesi dell'inverno perché i clienti soprattutto quelli di piccola dimensione quindi i domestici e le piccole attività economiche possono uscire dal contratto quando vogliono con un preavviso molto molto limitato quindi questo è un business quello della fornitura di energia e gas che ha rispetto ad altri settori l'incertezza nei volumi da riformire e che cosa vuol dire in un inverno come questo che se dovrò riformire volumi superiori rispetto a quanto previsto questi volumi dovranno essere pagati cinque volte quello che avevo previsto quindi la struttura di questo settore fa sì che il fornitore di energia e gas sia estremamente esposto al rischio quindi non ha un beneficio il fornitore da una situazione di prezzi così volatili e così elevati in quanto generalmente sostiene dei costi per la imprevedibilità dei costi quindi rispetto alle misure che sono state discusse e a quelle che ancora si discutono ci terrei a sottolineare che questo l'abbiamo segnalato anche alla commissione europea con l'associazione europea dei fornitori di energia ora bisogna prestare attenzione a quello che accadrà sul fronte dei pagamenti perché se i prezzi dell'energia del gas in inverno aumenteranno molto io mi attenderei a valle dell'inverno un peggioramento nella liquidità e nelle modalità di pagamento dei clienti finali ci terrei a segnalare che sono pericolose quelle dilazioni obbligatoriamente richieste ai fornitori di energia un po' sulla falsa riga di quanto era stato fatto per il covid cioè durante il covid era stato imposto ai fornitori di energia di dilazionare i pagamenti ai clienti finali senza però che questa misura fosse estesa a tutta la filiera dell'energia perché come sapete il fornitore dell'energia è solo l'ultimo tassello della filiera poi il fornitore di energia deve occuparsi di pagare le reti di pagare l'energia di pagare il gas e pagare anche le imprese di trasporto come SNAM e TERMA durante il covid era stata imposta una dilazione obbligatoria agli anni finali da parte del del fornitore e soltanto una dilazione transitoria tra il fornitore e il gestore della rete è chiaro che non possiamo ripetere con la stessa misura perché già l'anno scorso abbiamo sofferto per proteggiare il covid quest'anno se si arriverà ad una crisi di liquidità e si riterrà necessario concedere delle dilazioni di pagamento questo bisognerà farlo lungo tutta la filiera quindi dal fornitore al cliente ma anche la dilazione dovrà essere concessa tra il fornitore e il distributore la società di trasporto e anche la fonte di approvvigionamento energetica ripartendo il rischio lungo tutta la filiera questo è l'unico modo secondo noi per poter fronteggiare una crisi di disabilità se questa si dovrà si dovrà rappresentare un altro modo con il quale la crisi dei prezzi impatta sui fornitori è il tema delle garanzie come avete capito noi siamo l'ultimo tassello della filiera e acquistiamo servizi dal resto della filiera quindi dal trasporto distribuzione eccetera a tutti questi soggetti dobbiamo dare delle garanzie bancarie o o di altro tipo quando questo è possibile quando i prezzi aumentano molto che cosa significa che con lo stesso ammontare di garanzie bancarie che io adoperavo per comprare l'energia fino a poco tempo fa adesso posso acquistare un quinto dell'energia o del gas se i prezzi sono aumentati di cinque volte questa può essere una criticità che può rallentare l'operatività della filiera perché in parallelo evidentemente le banche non sono pronte ad espandere le linee di credito concesse ai fornitori di energia perché ovviamente le banche si preoccupano di questo scenario per cui è molto importante anche pensare a strumenti che diano un sollievo alla tematica delle garanzie in questa fase straordinaria del settore per cui gli impatti sono sia di costo che di possibili difficoltà negli incassi che di garanzie ci teniamo a fare questo quadro ma anche a fornire qualche spunto al tema del che cosa si può fare per affrontare questa situazione naturalmente è ovvio che abbiamo di fronte uno scenario che ha una dimensione internazionale quindi a livello internazionale è importante collaborare con gli altri paesi per particolare direi per rivedere valutare la strategia gas che ha l'Europa perché è da lì che parte un po' questa crisi ma anche ragionare sullo strumento dei titoli della CO2 perché anche quelli stanno mostrando un incremento molto molto forte che impatta sul prezzo dell'energia in particolare ricordo che solo qualche mese fa in Italia si era verificato un tema di incremento smisurato dei titoli rappresentativi dell'efficienza energetica e cosiddetti certificati bianchi la nostra autorità è intervenuta per calmirare i prezzi di quei titoli la CO2 però è un mercato internazionale quindi bisognerebbe concordare modalità con altri paesi per intervenire un tema importante è anche quello di ripensare la modalità con cui si fanno contratti nel nostro mercato il nostro è un mercato che vede la prevalenza di contratti di breve termine al massimo di 12 mesi non ci sono contratti di lungo termine perché come dicevo prima i clienti possono uscire dal contratto quando vogliono se questo da una parte è stato fatto per garantire la massima mobilità ai clienti e la capacità di cambiare fornitore quando vogliono dall'altro però non ha consentito il mercato di strutturarsi su contratti di lungo termine che avrebbero dato una grossa mano in questa crisi perché evidentemente i contratti di lungo termine sono fatti anche per calmirare un po' i prezzi volatili dell'energia e del gas possiamo fare un esempio adesso se guardiamo le previsioni di prezzo del 2022 e del 2023 vediamo che quelle del 2023 sono più basse però io non posso fare oggi un contratto ai miei clienti in 24 mesi perché il mio cliente se ne può andare dopo un mese ecco questo forse va un po' rivalutato perché l'eccessiva facoltà di movimento dei clienti poi porta scompensi da un altro lato il mercato questo che non è in grado di assorbire le volatilità come è accaduto in questo periodo un altro suggerimento può essere quello di snellire al massimo tutte le procedure che riguardano iniziative di autoconsumo come le comunità energetiche o l'autoconsumo dei condomini prevedendo un ruolo però anche per chi si fa promotore di queste iniziative o per il fornitore stesso che potrebbe dare un volano allo sviluppo di progetti in questa direzione vanno d'altra parte secondo noi anche rinnovate tutte le agevolazioni attualmente in essere sull'efficienza energetica per ricordarle perché come tutti gli anni i progetti possono risentire del possibile stop al 31-12 invece l'efficienza energetica è uno strumento per fronteggiare la crisi dei prezzi energetici da ultimo è importante anche rendere stabili le misure transitorie e straordinarie che sono state introdotte per snellire le bollette perché in definitiva il trend di crescita del costo delle commodities noi lo riteniamo in parte stabile non è soltanto frutto di fiammate inflazionistiche occasionali questi sono i pensieri che tenevo a condividere grazie grazie presidente chiedevo ai colleghi se ci sono delle domande per il presidente Bello no? ok allora la ringraziamo presidente per il suo contributo le chiedo una cortesia se poteva inviarci una nota anche con le osservazioni eventualmente che ha posto così almeno per rimanere agli atti e i colleghi possano eventualmente prenderne atto in sede diciamo di conversione certamente certamente grazie grazie a tutti ottimo sfondo tra parentesi grazie grazie è una frase a cui sono affezionato è la verità tra bene per chi ha giocato a calcio è esattamente così grazie arrivederci grazie arrivederci grazie 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 colleghi aspettiamo che si colleghino l'energia libera e poi diamo il via direi dieci minuti cinque meno forse appena si collegano ci mettiamo in moto un secondo ok possiamo partire quindi presidente a lei la parola grazie per poi dieci minuti colleghi in caso di domande grazie prego allora innanzitutto grazie per l'invito e per l'opportunità di poter dare la nostra opinione due parole su energia libera energia libera rappresenta importanti società che sono attive nella produzione e la vendita di energia elettrica il nostro scopo è lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore strategico ci proponiamo di fare questo non tanto come una difesa dagli interessi solo delle aziende ma soprattutto dando un contributo di pensiero promuovendo anche attività di ricerca che studi e analisi tecnico e economiche perché il nostro obiettivo è sviluppare il mercato siamo peraltro molto attivi anche nel dibattito istituzionale i nostri studi poi sono presentati all'interno dei convegni annuali che facciamo come associazione diamo due numeri rappresentiamo circa 3 milioni di clienti per energia elettrica 4 milioni e 200 mila nei clienti del gas fatturato globale delle società 28 miliardi di euro quindi rappresentiamo un'importante associazione allora condividiamo pienamente le azioni intraprese dal governo per limitare gli aumenti dei prezzi di elettricità e gas e soprattutto abbiamo apprezzato che questo è stato fatto senza compromettere il funzionamento del libero mercato abbiamo apprezzato moltissimo l'eliminazione delle bollette per l'ultimo trimestre del 2021 e degli oli di sistema per tutti il sistema del gas per tutti i clienti e quella dell'elettricità per le famiglie e le piccole imprese nonché il potenziamento il potenziamento dei bonus per luce e gas per proteggere le fasce meno ambienti diciamo che noi con un senso di responsabilità per dare per dare piena attività a questa delibera che peraltro non ancora non ancora non ancora operativa noi ci siamo ci siamo già attivati per adeguare i nostri sistemi informatici quindi per dare piena attuazione alla decreto legge 130 21 e questo l'abbiamo fatto ripeto con dispendio di risorse perché potesse essere fatto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche la cosa che però ci dà uno spunto per noi importante è quello che vorremmo che questo tipo di interventi non fossero emergenziali ma fossero strutturali perché riteniamo che liberare la bolletta di Eglioneli e renderla come dire molto più comprensibile ai cittadini agli utenti favorisca la concorrenza e soprattutto la favorisca in un momento in cui stiamo andando verso un mercato libero verso l'eliminazione della tutela ricordo che già oggi per i clienti che sono nel mercato libero ma con prezzi fissi sostanzialmente nonostante questo aumento vertiginoso dei prezzi del mercato sono stati favoriti rispetto ai prezzi dei clienti che sono nel mercato tutelato riteniamo che si debba prestare molta attenzione proprio ai temi dell'autoconsumo dell'efficienza energetica e chiaramente oltre a questi interventi diciamo fiscali sulle bollette credo che ulteriori provvedimenti strutturali possono avere un impatto importante sulla bolletta come la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali nonché la semplificazione che tutti ci auguriamo una semplificazione autorizzativa per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili è che questo dovrebbe essere la vera svolta perché il costo dell'energia sia sempre più basso e sempre più importante per la competitività del paese io mi fermerei qui e se ci sono domande sono pronto a rispondere chiedi ai colleghi se ci sono domande ne avrei una io su quello che ha detto all'ultimo riguardo il percorso autorizzativo quindi la semplificazione del percorso autorizzativo diciamo delle fonti di energia innovabile se poteva essere un pochino più preciso su questo perché è un argomento che mi interessa anche su altri temi legati all'autorizzazione diciamo per impianti di altro genere grazie riteniamo che la semplificazione che la semplificazione degli itero autorizzativi che oggi vi ricordo che si parla di anni per ottenere una licenza per un impianto e questi chiaramente allontanano gli investimenti invece al contrario in questo momento di transizione una certezza dell'itero autorizzativo una semplificazione tra l'altro saremo auditati prossimamente anche su questi temi siano assolutamente necessari perché se no gli obiettivi che ci siamo posti sia in termini di PNIEC che di PNRR saranno difficilmente realizzabili questo si è visto nei numeri delle aste del GSE negli ultimi tempi e si è visto di quanto ritardo ci sia rispetto a quello che si sta realmente facendo in termini di nuovi impianti rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati quindi c'è molto da recuperare e uno dei punti essenziali è proprio la semplificazione grazie credo che questo sia un obiettivo che insomma il Parlamento deve porsi non solo su questi temi ma anche su molti altri questo è evidente allora se non ci sono altre domande io ringrazio il Presidente Pinto per la sua esposizione e anche la ringrazio per la relazione scritta e passiamo alla prossima alla prossima edizione e ancora grazie Presidente buon lavoro grazie a voi buon lavoro Buongiorno tanto nel primo dato se mi sente se mi sente bene sì sì certo la sento perfetto Presidente ora possiamo dare via l'audizione Federmetano la parola al Presidente Natali dieci minuti più altri altrettanti per eventuali domande grazie Presidente la ringrazio io ho alcune slide che adesso provo a condividere sullo schema e mi darete la conferma le vedete no credo che deve fare un'azione di condivisione dello schermo ne approfitto Presidente per chiedergli per chiederle anche di inviarcele eventualmente queste slide insieme magari alla nota di accompagnamento che poterla mettere a disposizione dei colleghi per eventuali osservazioni al parere nella è qui provi a cliccare qui lì ecco share screen scusate adesso spero di adesso dovremmo vedere ok scusate per il tempo perso dunque fede metano è un'associazione che rappresenta il settore distributivo del metano per auto in Italia da 70 anni cioè dall'immediato dopo guerra attualmente rappresenta un quarto della rete distributiva di quelli che sono i distributori stradali e che erogano metano per auto rifornimenti fatti in un anno sono 15 milioni quindi siamo ampiamente il settore più uno dei settori più importanti a livello mondiale se confrontiamo le realtà dei vari paesi nel corso degli anni fede metano ha poi ampliato la propria capacità rappresentativa andando a coprire anche altre aree del settore dello stesso settore quindi oggi abbiamo una rete di officine affiliate che fa manutenzione e assistenza a questi mezzi e inoltre abbiamo tra gli associati anche aziende che operano nel metano liquido e soprattutto nella produzione di biometano produzione e distribuzione di biometano attualmente il quadro del settore è questo abbiamo 1500 distributori aperti al pubblico quindi una rete un'infrastruttura veramente importante in grado di coprire tutto il territorio nazionale 54 di questi si trovano sulla rete autostradale e 104 sono completati con metano l'erogazione del metano liquido e sono in forte crescita il parco circolante complessivo è di 1 milione 100 mila circa veicoli quindi veramente un parco molto importante e soprattutto quello che abbiamo registrato negli ultimi anni nonostante le difficoltà abbiamo potuto notare come ci sia un consolidamento di questi numeri cioè la gente ci sceglie e mantiene l'auto a metano nel tempo perché il settore è in grado di rispondere alle richieste di mobilità e di trasporto dell'utenza per darvi un'idea nel 2011 cioè dieci anni fa la rete era 796 impianti oggi 1500 il circolante era costituito da 650 mila veicoli e oggi più di un milione tutto questo è stato creato e progressivamente costruito nell'arco di Dieciano qui abbiamo invece l'aumento della materia prima il motivo per cui oggi mi trovo qui è che nel corso degli ultimi mesi c'è stata si è verificato quello che non si era mai verificato negli ultimi 70 anni per dire le cose come stanno c'è stato un incremento fortissimo della materia prima che si è portata su livelli mai raggiunti in passato qui vedete come storicamente il prezzo del metano è sempre stato molto stabile su valori intorno ai 20 25 euro per megawattora qui abbiamo invece la sovrapposizione dei due prezzi cioè quelli del petrolio del Brent e quelli del PSV come vedete l'aumento è stato talmente questa è una slide che rappresenta la situazione dell'andamento prezzi dell'ultimo anno come vedete l'andamento è stato tale da completamente invertire i rapporti tra le due fonti energetiche il metano che è sempre costato molto di meno del petrolio oggi ha un prezzo che è molto superiore per darvi un'idea se lo stesso incremento si fosse verificato sul petrolio oggi andremo al distributore e troveremo il gasolio a 4 euro al litro con tutte le inevitabili conseguenze questo è quello che invece sta accadendo oggi sul nostro settore scusate sono andato indietro questo è l'andamento storico dei prezzi dei vari carburanti per autotrazione quindi abbiamo il GPL che è la linea azzurra in basso il metano liquido che come vedete è la linea arancione come vedete comincia a segnare un incremento del prezzo in anticipo rispetto al metano gassoso diciamo che invece è la linea verde e che si mantiene ferma sostanzialmente perché gli unici dati che abbiamo al momento arrivano a settembre mentre l'incremento è legato ai nuovi contratti che sono stati stipulati a partire dal primo di ottobre contratti di fornitura e gas con la maggior parte degli operatori del settore e le altre due linee sono invece quelle del gasolio e della benzina che come vedete corrono via parallele sostanzialmente a partire da ottobre il grosso incremento del costo dell'aumento della materia prima ha costretto gli impianti in sostanza a portare i prezzi ad innalzare i prezzi in modo esorbitante attualmente noi segnaliamo un prezzo medio anche se è molto difficile mantenere tenere d'occhio la situazione perché è molto fluida cambia continuamente attualmente però stimiamo un prezzo intorno a 1 euro e mezzo 1 euro e 6 al chilo fino a settembre era 0,95 tutto ciò ovviamente con grosse differenze sul mercato anche grosse differenze sul mercato legate al fatto che ogni operatore poi ha siglato contratti diversi ci sono addirittura operatori che hanno siglato l'anno scorso un contratto biennale che quindi quest'anno si trova in una situazione completamente diversa dagli altri non sono tanti ma ci sono anche questi quali sono le conseguenze le conseguenze sono una totale inversione del rapporto consolidato tra i prezzi dei vari carburanti sull'autotrazione il malcontento per l'utenza che è ovviamente la parte danneggiata ed è il motivo per cui noi siamo qua cioè noi siamo qui per chiedere un intervento al governo che ci consenta di superare questa situazione emergenziale girando questo vantaggio alla clientela che oggi che ha comprato l'auto a metano magari un mese fa e oggi si ritrova ad avere un'auto che gli costa più di un'auto che va a benzina e parliamo ovviamente di utenza debole perché parliamo di famiglie che se hanno scelto il metano che storicamente è sempre stato il carburante più economico lo ha fatto per i motivi economici oltre che quelli ambientali tutto questo però ha anche ripercussioni dal punto di vista delle imprenditorie e di tutto il settore del comparto che vi ricordo ha un numero di posti di lavoro stimato complessivo intorno ai 20.000 quindi è un settore di tutta vanguardia e di tutto rispetto a livello mondiale è chiaro che trovare una situazione di inversione dei rapporti di questo tipo porta gli imprenditori a non sapere più cosa fare e nel dubbio non fare nulla quindi rischiamo la stasi se non il regresso della rete distributiva che come vi facevo vedere è stata realizzata in dieci anni e che oggi serve a veicolare il metano fossile ma domani e già oggi serve per veicolare lo stesso biometano e la stessa rete distributiva può essere usata tra qualche anno per le miscele idrogeno metano quindi un'infrastruttura che oggi serve a questo domani serve ancora di più al processo di decarbonizzazione verso il quale siamo tutti coinvolti vi ricordo comunque che il nostro settore già oggi contribuisce per una percentuale elevatissima perché il 20% di tutto il metano che viene oggi utilizzato in autotrazione è di origine bio e quindi ha impatto completamente zero dal punto di vista della CO2 emessa quali sono gli interventi che immaginiamo a medio lungo termine possiamo immaginare chiaramente il potenziamento della produzione di biometano oppure inoltre per un periodo transitorio un incremento dell'attività estrattiva dai giacimenti che abbiamo in Italia certamente vanno ben viste anche le misure di cui si è parlato ultimamente a livello UE per quello che riguarda l'ottimizzazione degli stoccaggi e gli acquisti collettivi tra più paesi di gas però a noi serve un intervento immediato ci serve un intervento che abbia un immediato riscontro ci possa consentire di dare un immediato riscontro alla nostra utenza che è il patrimonio principale che abbiamo e questo può arrivare dalle due proposte che noi facciamo in particolare oggi quella che vi esponiamo è quella della riduzione di IVA dal 22 al 5% ma andando per gradi fino ad oggi abbiamo due come provvedimenti abbiamo due delibere di arera che pesano per l'utenza finale intorno a un centesimo e mezzo 1,6 euro cent al chilo quello che chiediamo che abbiamo proposto visto che siamo in comitato gestione fondo bombole di cui è responsabile il ministero sviluppo economico e abbiamo chiesto un azzeramento del contributo e un suo slittamento non è che non vogliamo pagare chiediamo che quest'onere fisso al metro cubo venga slittato verso un periodo nel quale il mercato ci consenta di recuperare questo pagamento e che ha un peso di 6 euro cent al chilo ma il provvedimento più importante è certamente quello che si allaccia che si ricollega al decreto legge del 27 settembre 2021 dal quale noi oggi non siamo stati ricompresi e vi chiediamo di essere ricompresi qui vi riportiamo il testo dell'emendamento che speriamo di venire che venga approvato e che prevede l'allargamento oltre agli usi civili e agli usi nazionali anche all'uso autotrazione un allargamento della riduzione dell'iva dal 22 al 5% anche ricomprendendo il gas metano per autotrazione come vedete nell'ipotesi di un prezzo al pubblico di 1,6 quello medio di cui vi parlavo prima questo avrebbe un peso questo provvedimento avrebbe un peso di 21 euro cent quindi un peso importante che consentirebbe ai nostri operatori di girarlo all'utenza e quindi calmirare il prezzo finale all'utenza al fine di superare la situazione emergenziale che si è creata perché tutto quello che chiediamo è esclusivamente transitorio serve solo a superare questa situazione di impasse che si è venuta a creare se vogliamo parlare di numeri la riduzione dell'iva dal 22 al 5 per cento avrebbe un costo per le rari di 6 milioni di euro al mese ma in realtà non è un costo perché poi l'aumento dei prezzi finali ha già fatto recuperare lo Stato farebbe recuperare lo Stato ampiamente questa riduzione di gettito IVA per cui la cosa potrebbe essere fatta tranquillamente e essere sostenuta dallo Stato senza grossi problemi pensiamo poi anche all'autotrasporto dove la riduzione dell'iva non consente di avere effetto per cui sarebbe utile avere anche qui a livello transitorio dei provvedimenti che possano agevolare anche quegli autotrasportatori che molto attenti all'ecologia hanno investito e acquistato mezzi a metano liquido che oggi si trovano anche loro con un prezzo che assolutamente è superiore a quello del gasolo chiediamo anche che queste agevolazioni perdurino anche per il primo trimestre del 2022 perché ormai le previsioni danno come la situazione attuale del prezzo internazionale che è la causa del problema stabile fino almeno ad aprile o comunque su questi ordini di grandezza fino ad aprile quindi in conclusione chiediamo due provvedimenti quello dell'estensione dell'IVA al 5% anche per il gas naturale per autotrazione che ci consentirebbe di avere uno strumento veramente efficace per andare a incidere sul prezzo finale all'utenza cioè poterlo ridurre immediatamente all'utenza l'ulteriore provvedimento è quello che dicevo prima relativo al contributo gestione fondobombo e metano che anche se inferiore è comunque sempre importante perché vanno a sommarsi ripeto questi due provvedimenti noi li chiediamo contenitivi perché il nostro obiettivo è quello di tutelare al massimo quello che è il nostro patrimonio maggiore cioè la nostra utenza se no se questo non verrà fatto vedremo disperdere questa e anche il sistema infrastrutturale che con tanta fatica e con il lavoro di tanti imprenditori è stato costruito e che può servire come dicevo prima anche per l'idrogeno per arrivare all'idrogeno verrà compromesso rischia di essere compromesso vi ringrazio grazie presidente chiedevo se ci sono domande vedo il senatore Mollame prego buongiorno grazie grazie presidente buongiorno al al dottor dante mi ero prenotato per fare una domanda e poi ho visto che nelle conclusioni il dottor dante in qualche modo ha risposto che era cosa ne pensasse lui sui tempi ecco su quanto potesse adorare questo fenomeno che da quanto abbiamo visto anche dai grafici che sono molto eloquenti e di portata storica è proprio in virtù di quello che potrebbe significare già questa rete di distribuzione che è cresciuto un po' a fatica come tutte le innovazioni in un contesto dove i carburanti utilizzati sono altri visto che potrebbe avere anche sviluppo per il biometano per la distribuzione dell'idrogeno concordo sul fatto che pur trattandosi ancora oggi di una nicchia per certi versi potrebbe avere una rilevanza assai notevole per il futuro faccio semplicemente una domanda perché se ho capito bene in questo momento lei dottore faceva riferimento al fatto che in questo momento utilizzare il metano costa ancora di più della benzina per una semplice autovettura grazie Presidente un secondo solo le chiederei di togliere la condivisione diciamo delle slide in modo da se riesce se no adesso per avere il quadro generale delle forse già così perfetto adesso la vediamo a tutto schermo e tanta roba grazie grazie sì purtroppo la situazione è talmente parliamo di un aumento del prezzo della materia prima che è arrivato fino a sei volte quindi alcuni operatori poi qui entriamo nel dettaglio cioè ci sono operatori che hanno siglato contratti di tipo variabile cioè che recepiscono immediatamente l'aumento e immediatamente poi anche la diminuzione del prezzo ma non mediano non effettuano alcuna media sul prezzo al PSV che è il prezzo del mercato e alcuni nostri operatori sono veramente molto in difficoltà e sono costretti a fare oggettivamente dei prezzi tali per cui l'utente si chiede se non convenga andare a benzina il problema qual è? è aggravato dal fatto che molte delle vetture tra l'altro di ultima generazione proprio per ottimizzare al massimo e limitare al massimo l'inquinamento emesso sono dotati di motori che ormai a benzina ci vanno solo in situazioni molto particolari e sono dotati di serbatoi anche solo di 9-10 litri quindi l'autovettura diventa diciamo uno potrebbe dire vai a benzina che così superi il momento paghi un po' di meno rispetto al prezzo del metano attuale anche questa opportunità diventa veramente molto difficile da perseguire per l'utenza e crea dei grandissimi disagi senza considerare che ci sono anche vetture che non hanno proprio il serbatoio della benzina cioè vanno solo a metano quindi si tratta veramente di una difficoltà di una difficoltà oggettiva abbiamo colleghi del settore che addirittura si sono visti costretti hanno chiuso l'impianto cioè se un imprenditore arriva al punto da chiudere l'impianto vuol dire che effettivamente non ci sono non riscontra le condizioni per poter lavorare vi lascio immaginare il disagio per l'utenza che che si è sempre rivolta a questo settore che ha sempre trovato in questo settore una soluzione alle proprie difficoltà anche economiche perché vi ricordo che il metano è da sempre utilizzato dalle famiglie cioè gli stessi utenti che voi avete raggiunto col decreto salvabollette cioè è la stessa identica situazione grazie presidente se non ci sono altre domande io la ringrazio le chiederei di inviarci le slide che ha prodotto perché sono estremamente interessanti e tengono anche conto diciamo del contributo che avete dato e soprattutto delle proposte che avete fatto quindi la ringrazio le farò avere il materiale che vi conosce buon lavoro e grazie buon lavoro